Spazio dedicato alla medicina, parliamo di aggiornamento ma soprattutto di prevenzione nell'ambito della ricerca cardiologica e lo facciamo in compagnia dei promotori del prossimo evento ovvero congresso Ance in Campagna e per cui diamo il buongiorno e il bentrovato al dottor Roberto Breglio, presidente del convegno nonché presidente regionale Ance. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno. Insieme a lei dottor Massimo Romano, responsabile scientifico nonché consigliere nazionale Ance. Buongiorno, bentrovato. Dunque, parliamo di questo convegno ma soprattutto passettino indietro e diciamo che cos'è Ance. Ance è l'associazione nazionale cardiologici extra ospedalieri che però appunto opera su tutto il settore nazionale. Come nasce questa bellissima realtà? Che cosa racconta? Allora, parlo un po' io. È una realtà che rimonta già molti anni fa. Una volta c'erano soltanto gli universitari e gli ospedalieri. In realtà il territorio dal punto di vista soprattutto della prevenzione è quello che conta. L'abbiamo visto anche con la pandemia. Quindi è un'associazione che ha riunito per tanti anni, ha fatto soprattutto cultura e informazione, migliaia di cardiologi e anche di medici che operano in questo settore. Quindi ha avuto sempre un'attività scientifica importante organizzando dei congressi nazionali e avendo anche un'attività a livello regionale storica perché poi la Campania ha avuto sempre un ruolo trainante nell'ambito della nazione. Attualmente ne facciamo questo congresso regionale, a maggio ne faremo nazionale a Roma. L'obiettivo è sempre quello di fare aggiornamento anche perché la medicina in ospedale è importantissima ovviamente. Però ovviamente se il territorio funziona, le necessità, lo vediamo in questo momento che cos'è caricare gli ospedali in un'attività che non riescono a svolgere adeguatamente. Anche se abbiamo in Campania un'ottima rete di infarto per esempio. Sensibilizzare in ottica di prevenzione questo è lo scopo e appunto ci sarà un convegno a Roma ma adesso invece ne sarà uno a brevissimo tempo appunto nella nostra regione Campania. Il prossimo congresso ANCE che si terrà per l'appunto il 20 gennaio al Palazzo Alabardieri di Napoli e sarà dedicata alla prevenzione cardiovascolare. Noi parliamo di prevenzione però e situiamo anche a pubblico quali possono essere i campanelli d'allarme che devono farci preoccupare in ottica sempre di prevenzione ma in realtà dobbiamo arrivare un momentino prima. Allora il congresso di venerdì diciamo è incentrato proprio nella prevenzione cardiovascolare quindi nel prevenire tutti quelli che sono le possibili cause di aterosclerosi. Quindi naturalmente ridurre l'incidenza della dislipidemia, ridurre il sovrappeso, ridurre eventualmente quelle che è l'ipertensione, il diabete e quindi prevenire tutte quelle che sono le possibili cause di formazione della placca a livello delle arterie e soprattutto delle arterie coronarie. Diciamo che abbiamo voluto iniziare il congresso proprio con il cambio di stile di vita e quindi con una relazione della professoressa Colau che ci presenterà proprio qual è il modo di avere un approccio preciso per quanto riguarda la prevenzione cardiovascolare proprio nello stile di vita e l'uso di quelli che possono essere degli integratori che attualmente ci possono aiutare sia per diminuire il livello di colesterolo che trigliceridi. L'uso invece di quelle che sono le linee guida di farmaci che come sappiamo sono soprattutto le statine e che hanno cambiato la nostra realtà riducendo di oltre il 30% il reinfarto e permettendo diciamo di ridurre quella che è l'incidenza del reinfarto e della patologia aterosclerotica. Dottor Berlio, vediamo un po' entrare nel merito e dire a pubblico quali sono le patologie più comuni ma soprattutto se ne soffrono più le donne o gli uomini oppure e se ulteriormente vi sia una fascia d'età anagrafica deputata alla quale prestare maggiormente attenzione? Diciamo che la prevenzione deve cominciare da appena i ragazzi fanno attività fisica, possono cambiare stile di vita perché purtroppo in Campania abbiamo un alto grado di obesità infantile, dobbiamo dire che naturalmente l'incidenza delle patologie è correlata a ipertensione, diabete, obesità, sovrappeso alla dislipidemia come dicevamo precedentemente e quindi diciamo la prevenzione nasce già dall'età diciamo adolescenziale, avere un adolescente che sa che è utile mangiare in un certo modo e fare attività fisica poi sarà sicuramente un adulto che meno avrà problemi cardiovascolari. Il rischio ad avere problemi cardiovascolari abbiamo parlato però di fattori esterni, no? Io invece vorrevo chiedere anche se a ciò si aggiunge una relativa predisposizione nelle malattie cardiovascolari e se sì a questo punto quali sono gli esami che possono venirci incontro in aiuto in ottica di prevenzione quindi saperlo prima magari ci aiuta a comportarci diversamente. Allora una volta se si ricordano le persone più grandi c'era per esempio si facevano il TAS e la VES per controllare eventuali patologie delle donzille e quindi il rischio della malattia reumatica che mieteva un sacco di vittime perché soprattutto nel sud avevamo un sacco di malati, soprattutto donne affette da patologia valvolare. Adesso grazie a Dio l'alimentazione è migliorata però adesso siamo caduti in altri eccessi perché lo stile di vita è molto peggiorato rispetto a qualche anno fa. Molto più energico, dinamico per cui è... Sì però adesso c'è un abuso di alcol, il fumo, soprattutto nelle ragazze molto giovani, la mancanza di sonno e così via. Poi ovviamente bisogna proprio tenere conto della familiarità perché ci sono famiglie purtroppo nelle quali la genetica influenza, cioè è difficile sfuggire all'ipertensione, al diabete se uno non sa gestirsi e quindi anche questo. E un altro discorso importante è il rischio delle malattie, delle aritmie cardiache su base genetica che spesso miedono vittime soprattutto dai giovani e vanno conosciute. Per esempio è impossibile pensare di questi tempi che ci sono persone che non fanno un elettoradiogramma se non per un'operazione oppure per esempio al momento che aspettano un bambino. Non è possibile perché spesso basta fare un elettoradiogramma per accertarsene. Esatto, tra l'altro prima parlavamo di prevenzione ma soprattutto l'attività fisica regolare, la sana alimentazione riescono a tenere in costante monitoraggio il colesterolo e anche i trigliceridi. In caso però di valori squilibrati le prime parole integratori, gli stessi, possono essere di valido aiuto per riporre un equilibrio? Assolutamente sono di valido aiuto soprattutto in prevenzione primaria, cioè in quelli che hanno valori elevati colesterolo e trigliceridi ma non hanno ancora avuto degli eventi cardiovascolari. Parlo di eventi come cardiopatia ischemica, sia infarto oppure ictus cerebrali oppure la presenza di placche aterosclerotiche a livello delle carotidi e o delle arterie, degli arti inferiori. Diciamo che il paziente, come poi vedremo nel congresso, deve essere studiato prima con visi e elettrocardiogramma, uno a buona anamnesi, poi si deve passare a livelli superiori, cioè l'ecocardiogramma e l'eventuale possibilità di ecodopper delle arterie sia nel distretto dei tronchi sovraortici, sia della orta addominale sia degli arti inferiori e poi abbiamo la possibilità di andare a studiare con coronarotac, già le coronarie senza fare la coronarografia, con la prova da sforzo che viene utilizzata proprio per vedere quanto possa fare il paziente, anche che ha avuto già un evento e quindi la riabilitazione cardiologica, migliorare la sua capacità di allenamento, sia andare a vedere sempre con esami non invasivi le carotidi e le arterie e la orta addominale. Insomma, punti aspetti importanti che ANCE Cardio, l'Associazione Nazionale Cardiologica e questo ospedaliere tiene a cuore e pone come obiettivo nel presente e anche nel prossimo futuro. Ricordiamo l'appuntamento del convegno il prossimo 20 gennaio a Palazzo alla Barlieri di Napoli, ecco qui la presentazione del congresso e ricordiamo soprattutto che il tutto è stato realizzato in collaborazione della Manager Territory Farmaceutico, la dottoressa Elda Desiderio. Pinto, grazie agli ospiti, grazie a dottor Massimo Romano, responsabile scientifico consigliere nazionale ANCE e grazie al dottor Roberto Brelli, presidente del convegno e presidente regionale ANCE per essere stati con noi. Piccolo break.